E dopo l'incontro del disgelo a Washington tra il presidente americano Barack Obama e il premier israeliano Benjamin Netanyahu, c'è scetticismo sulla concretezza dei propositi annunciati. Secondo il New York Times si è trattato soltanto di un'operazione di facciata, ma le preoccupazioni principali sono tra i palestinesi. Ora sentiamo da New York il corrispondente della stampa Maurizio Molinari. E Benjamin Netanyahu ha incontrato ieri a New York, in serata, anche il segretario generale dell'ONU, Ban Ki-moon, a 45 minuti di colloquio, al quale non ha fatto seguito alcuna dichiarazione di Netanyahu. Dalla Nigeria, dove partecipa ad un vertice del D8, che raggruppa otto paesi musulmani in via di sviluppo, ieri il presidente iraniano Mahmoud Ahmadinejad ha definito gli Stati Uniti come un dittatore planetario. Una forte esplosione è avvenuta oggi sull'Airport Road di Erat City, lo ha reso noto oggi Tolo TV. Per il momento non si hanno altre notizie su possibili vittime dell'attentato, che è avvenuto appunto nella città capoluogo della provincia afghana, che si trova sotto il controllo delle truppe italiane. C'è stato un accordo tra l'Italia e la Libia sulla questione che riguarda la liberazione dei circa 250 ritrei detenuti nel carcere di Al Brac. Si è costituito alla polizia di Palma di Mallorca ed ha anche confessato il killer dei due italiani ad Hannover. La latitanza di Holger B, questo il nome, è durata meno di due giorni. L'uomo ora è rinchiuso nel carcere provinciale di Palma. Sentiamo allora da Berlino il corrispondente Rino Perlino. È stato arrestato e poi rilasciato su cauzione il noto musicista russo Mikhail Pletnev, accusato dalle autorità thailandese di abusi sessuali su un ragazzino di 14 anni. Il racconto è di Lucilla Rogai. Ieri 7 luglio a Pamplona, in Spagna, è incominciata la festa di San Firmino con la tradizionale corsa dei tori. Sono migliaia le persone in piazza e come ogni anno non sono mancati gli incidenti. Sentiamo Alessandra Bortoloni. E sulla finale del Mondiale di Calcio fioccano i pronostici. Anche la presentazione della nuova stagione della Medusa Film. Salvo Ficarra, del duo Ficarra e Picone, sa qualcosa e ci riserva saluti particolari. Allora sentiamo. Salutiamo anche noi Ficarra e con questi saluti speciali chiudiamo questa edizione del nostro giornale. Prossimo appuntamento con le notizie attorno alle 10. Per quello in tempo reale c'è sempre la nostra redazione internet. Il nostro sito è www.rainews24.it. A fra poco.